Sono le scelte e le fai. Sono le scelte. Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo o il minimo essenziale per vivere? E peggio ancora, che non ha il lavoro che lo unge di dignità? Promovere. la benediction de Dieu parlemento europeo e il Monsignor de Liban ma noi siamo la même iglesia e noi rappresentiamo l'ensemble l'ensemble de l'Eglise armenia sia in Armenia sia in la diaspora grazie per il tuo tempo grazie per te metto non è che succede non è che succede non è che succede se ci sono i nostri Europa necessita un nuovo covenant e il momento di cominciare è ora assalamualaikum good morning bonjour bonjour no morgen shalom grazie bene I believe every human being want happy life, successful life.